Se il basket fosse cinema, Tonino Zorzi avrebbe vissuto tutte le epoche, dal film muto al Dolby Atmos. Da giocatore, allenatore, dirigente, consigliere, professore. Un carattere schietto e spesso esplosivo che lo ha fatto amare trasversalmente anche da chi con lui si era magari scontrato. Il parron era soprannominato. 88 anni di vita quasi integralmente spesi nei campi da basket, iniziando dal cemento della Stella Mattutina, l'oratorio dei frati gesuiti a Gorizia dove era nato. L'unione ginnastica goriziana come trampolino di una carriera che già ventenne lo vide protagonista con la palla canestro varese di Enrico Garbosi, fra i primi agganci veneziani della sua seconda carriera nel basket, quella da allenatore dove per longevità e capacità può essere tranquillamente definita una leggetta. Specialista nelle promozioni dalla 2 alla 1, 5, di cui 3 con la Rea Irvenezia in altrettanti momenti di ritorno dalla città che lo aveva adottato anche se aveva scelto di vivere in terraferma a Mestre per essere più comoda di insegnare educazione fisica al liceo Franchetti a molti allievi, fra cui un certo Ettore Messina che avviò alla brillante carriera di allenatore spiegandogli a 17 anni che avrebbe avuto più strada da percorrere da allenatore che non da giocatore. Zorzi fu anche vice allenatore di Sandro Gamba con la nazionale italiana nel 1981 e nello staff azzurro nel 1991 quando vinse un argento europeo. Un infarto quando allenava a Siena lo colse alla vigilia della partita contro Mestre. Niente da fare, tornò in panchina dopo poche settimane e continuò a lungo a farlo, arrivando a inventarsi il nuovo ruolo di senior coach, affiancando prima Matteo Boniccioli nella vittoria di Coppa Italia d'Avellino e di Euro Challenge alla Virtus Bologna e quindi nel 2010 a 75 anni a fianco di Andrea Mazzonna alla Rea Irvenezia, ancora lei, per salvarla in Serie 2. E avrebbe continuato ancora anche se iniziava a divertirsi con l'amico giornalista Claudio Pea a giocare a golf per mantenersi in forma come aveva predicato e insegnato per tutta la vita. Dagli oratori all'aperto e parche di tutto il mondo, da Gorizia a raggio Calabria. È un giorno triste per la pallacanestro. Tanto di cappello per Onzorzi.